Vi presentiamo Alberto e la sua famiglia. Hanno un portatile, un PC ed una nuova TV. Come vedete sono felici, ma hanno anche qualche problema. La musica, i video e le foto si trovano su più dispositivi e localizzarli è sempre complicato. Poi si sta esaurendo lo spazio sui dischi fissi ed Alberto non ha effettuato alcun backup che lo protegga in caso di crash. Ad Alberto piacerebbe archiviare tutti i file multimediali della famiglia su qualcosa di grande e facile da usare. Sarebbe poi straordinario rivedere i file sulla nuova TV invece che tutti insieme davanti al computer. La soluzione arriva dall'Home Storage Center di Smart Living che grazie alle sue tre importanti caratteristiche rappresenta la soluzione perfetta ai problemi della famiglia. 1. Alberto può creare facilmente una libreria multimediale a cui può accedere tutta la famiglia, da qualsiasi computer o dispositivo. È semplicissimo, non servono né viti né attrezzi. Alberto inserisce i due dischi fissi nell'Home Storage Center. Collega l'Home Storage Center alla rete domestica inserendo il CD di installazione incluso. Clicca 8 volte sul mouse ed è subito pronto. Ora tutti i file sono al sicuro nell'Home Storage Center e sono accessibili da tutti i PC e dispositivi di casa. Alberto può persino creare cartelle pubbliche e private per decidere quali file saranno disponibili a tutta la famiglia. L'Home Storage Center è anche compatibile con iTunes. Così Alberto potrà finalmente salvare la propria musica in un unico posto e consentirne l'ascolto a tutti. 2. L'Home Storage Center dà tranquillità ad Alberto perché i file della famiglia sono al sicuro. Se dotato di due dischi fissi, il contenuto di uno viene automaticamente copiato sull'altro, garantendo la continua protezione dei file. I file aggiunti o aggiornati sui computer della rete di Alberto saranno automaticamente copiati sull'Home Storage Center. 3. L'Home Storage Center è stato progettato per funzionare perfettamente con lo Smart Living Wireless Media Router e il TV Media Player. Il wireless media router garantisce il trasferimento dei file da e per l'Home Storage Center alla massima velocità. Il TV Media Player riproduce facilmente tutti i file multimediali dall'Home Storage Center alla TV. Tecnologia semplice e intelligente, progettata per condividere emozioni e passioni. Questo è l'Home Storage Center di Sitecom. Fai come Alberto, adottane uno che stia al centro della rete domestica. Goditi i tuoi ricordi più cari e le tue emozioni più forti. Con Smart Living è facile! Goditi i tuoi ricordi più cari e le tue emozioni più forti.